Benvenuti al nostro TGN. Cari amici di Telemolise, parliamo del campionato di Serie D, un girone d'andata per gran parte in testa, poi il blackout con due punti nelle ultime quattro partite del 2023. Diretta inseguitrice del Campobasso, la San Benedettese del direttore sportivo Stefano De Angelis, che ha lasciato fantastici ricordi nel capoluogo molisano. Noi lo abbiamo raggiunto. Stefano De Angelis, tu sai la stima che ho nella tua persona, nella tua professionalità. Quindi, insomma, un discorso veramente a largo respiro su questo campionato, su questo girone F. Adesso sei a San Benedetto del Tronto, la prima impressione è che è un campionato molto molto equilibrato, per esempio, rispetto a quello che tu vincesti qui a Campobasso tre anni fa. Allora c'era il Campobasso, il notaresco, adesso mi sembra che il novero delle squadre che possono puntare a vincere sono qualcuna di più. Sì, 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 infatti è un campionato diverso, io l'ho sempre detto all'inizio dell'anno, quest'anno rispetto agli ultimi anni del girone F, è un campionato dove c'erano 6-7 squadre che puntavano al vertice. Infatti si sta verificando questo, alla fine sono quelle 6-7 squadre che sono partite dall'inizio dell'anno con intenti di fare bene, di fare un campionato importante. Ci sono stati investimenti, sono squadre che continuano ad investire e quindi si è avverato quello che dicevo, però è un campionato equilibrato, bello, è tutto ancora da giocare, con il giorno di ritorno che sarà insidioso un po' per tutti, questo sì. Ecco, la San Benedettese a un certo punto sembrava che avesse preso il largo, poi che cosa è successo? Io ho sempre detto che non eravamo l'ammazza campionato prima, non siamo adesso diventati magari ieri un campionato equilibrato dove abbiamo avuto le occasioni, purtroppo abbiamo avuto le occasioni di allungare, non l'abbiamo fatto, questo quindi è di merito nostro, è la bravura dell'avversario che ne ha approfittato. Quindi ad oggi c'è il campo basso che è stato bravo nell'ultimo mese magari ad ottimizzare tutto e alla fine magari la classifica dice che prima è prima con merito e gli altri devono inseguire. Noi abbiamo avuto l'ultimo mese al di là di una partita, penso che le prestazioni sono sempre state, abbiamo raccolto meno di quello che magari abbiamo prodotto in campo, però quello fa parte del periodo del calcio, dobbiamo essere bravi a migliorare dove magari abbiamo sbagliato, questo sì, senza fare recriminare su altre cose, arbitro o quant'altro, quindi se questo è quello che ci siamo meritati, quindi dobbiamo fare un po' di più, se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo crescere. Ma c'è da lottare fino alla fine, l'ho sempre detto, questo è un campionato molto molto equilibrato. Sicuramente, senti Campobasso come hai detto tu in questo momento tre punti in più, però secondo me insomma una delle antagoniste può essere anche il Senigallia che a mio avviso è un'ottima squadra, dico il Senigallia per dire che da 34 fino a 28-29 punti in sostanza sono tutte dentro per cercare di andare nella categoria. Sicuramente sì, io Senigallia l'avevo messo tra delle piazze che c'erano magari più brasonate, però l'avevo messo tra le favorite perché era l'anno scorso arrivata seconda, è una squadra che gioca insieme da due o tre anni, gioca bene, quindi alla fine ha tutte le carte in regola per giocarsi il posto fino alla fine. Sono racchiusi, come dicevi tu, in 4-5 punti sono racchiuse 8 squadre che potenzialmente continuano ad investire, quindi ci credono, ma com'è giusto che sia, quindi sarà un campionato che si deciderà a photo finish. Secondo me difficilmente ci sarà una fuga, poi vedremo adesso che dire al campo, questo sì, però ha detto bene, Senigallia è un'ottima squadra, noi al di là che è una partita dove forse abbiamo fatto delle prestazioni migliori in casa, abbiamo prodotto l'impossibile, però alla fine il risultato, abbiamo perso 1-3 in casa, sono stati bravi loro ad ottimizzare quelle poche occasioni che hanno voluto, noi abbiamo sprecato tanto, bisogna rimboccarsi le maniche dai e ripartire, però ripeto, ce ne sono 7-8 squadre che ad oggi possono arrivare potenzialmente in avanti. Certamente, ma io non l'ho detto perché la partita l'ho vista e sicuramente la San Benedettese, come hai detto tu, tutto avrebbe meritato tranne che di perdere, ma non l'ho detto per quello. Se ne è andato Danilo Alessandro, però visto che avete fatto dei movimenti in entrata, così come ha fatto anche il Campobasso, che da quando ha cambiato il direttore sportivo soprattutto, ma anche l'allenatore, ha cambiato anche ritmo, ha cambiato anche la possibilità di recuperare posizioni importanti in classifica. Sì, sì, indubbiamente sì, noi abbiamo fatto un mercato diverso, che avevamo già decisi di prendere quei due o tre innessi, di farli a gennaio, perché non potevamo prenderli prima, dai senegalesi, dai su Giampaolo, domani, dalla Re Canatese che non si potevano prendere prima, abbiamo preso bontà, abbiamo preso due ragazzi 2004, quindi era un mercato diverso, perché in quel momento a dicembre avevamo poco margine e abbiamo preferito aspettare un attimino a prendere giocatori diversi, queste sono scelte che si fanno, il Campobasso ha deciso, di farlo prima, magari perché era tardi da dietro, questo non so, ognuno ha le sue dinamiche, però il Campobasso sta dicendo che hanno fatto bene, perciò dai, ognuno ha le sue strategie, sono i momenti, loro sono stati bravi a capire il momento giusto e il lavoro sta dando ragione. Va bene Stefano, ce li siamo fatti anche naturalmente su WhatsApp, però l'occasione per augurare a te, alla tua famiglia, un 2024 radioso e quindi in definitiva, insomma che cosa dire, tu lo sai, noi tiriamo per il Campobasso e ci mancherebbe altro, però ci auguriamo che sarà una lotta di sport con protagoniste che si rispetteranno fino in fondo e a te in particolare, veramente gli auguri più affettosi, più sinceri di buon anno, vuoi dire una cosa? Penso che anche tu vuoi fare gli auguri a tutti i tifosi rosso-blu. Io ti ringrazio per le belle parole, la stima è reciproca, poi ripeto, è normale che io il Campobasso, ho fatto due anni e mezzo, tre anni, che sono forse i più importanti di quelli, sono stato meglio di tutti, importanti per il ruolo che ricopro oggi, quindi faccio un augurio al 2024 a tutti i tifosi del Campobasso, alla società, a detti i lavori, anche perché sono stato trattato sempre bene, quindi ho massimo rispetto e è una piazza a cui sono rimasto legato, è normale che oggi lavoro per un'altra squadra, però come dicevi tu, c'è grande rispetto sportivo e questo l'ha dimostrato anche quando siamo venuti giù, c'è anche tra le tifoserie, sono due grandi tifoserie, quindi sarà una bella lotta sportiva fino alla fine, questo sicuramente, però ho un contraccambio ai raguri, gli auguri del 2024, un buon anno, le migliori fortuna è una piazza che merita altro e questo lo dico con molta spontaneità. Settimana tipo di avvicinamento alla gara per le Molisane, per la prima di ritorno, in trasferta solo il Campobasso. Ci avviciniamo alla ripresa del campionato, domenica si torna in campo per la prima uscita del 2024 e del girone di ritorno. Cinque giornate consecutive prima della sosta prevista, domenica 11 febbraio, per la disputa del torneo giovanile di Viareggio. Il Campobasso prepara la trasferta di Monte Rotondo, mancherà il difensore Gonzales in ripresa dopo i problemi fisici di fine anno, ma fermato da uno stato influenzale. Il DS Filipponi è sempre al lavoro sul fronte mercato. Da definire l'ingaggio di una punta, i nomi sono sempre quelli di Trotta, Rossetti e Maio e almeno di un under per chiudere il cerchio. Sul campo è importante iniziare l'anno nel migliore dei modi. In betta al girone F, il calendario pone in successione tre avversari in piena lotta per la salvezza, come Monte Rotondo, Matese e Atletico Ascoli, le ultime due da affrontare a Selvapiana. Un passo alla volta i laziali soffrono, più in casa che in trasferta. Tre delle cinque vittorie totali nel girone d'andata del Monte Rotondo sono arrivate lontano dalle mura amiche. Discorsi che lasciano il tempo che trovano, in particolare quando si riparte dopo un periodo di sosta, ove tutto torna in discussione e spesso arrivano risultati a sorpresa. Certo, nell'ottica del girone F non si possono fare conti. Ogni giornata rappresenta un'insidia, soprattutto in questo momento, dove la quasi totalità delle squadre è in lotta per la vittoria del campionato o per la salvezza. Sfida casalinga fondamentale per il vasto Girardi, Alditella ospite il Fano. Un punto raccolto nelle ultime quattro uscite per il giallo-blu, un trend da invertire quanto prima. Contro il Fano è uno scontro salvezza, una gara che ha importanza in termini di classifica. Le due società sono divise da un solo punto in favore dei marchigiani, ma anche in ottica scontri diretti in caso di arrivo a pari punti a fine anno. Una condizione da non sottovalutare nell'ottica di assoluto equilibrio che si vive in fondo alla graduatoria. Al Cannarsa il Termoli riceve il Senigallia. I Laziali hanno chiuso il 2023 con tre vittorie consecutive. Una striscia che ha permesso anche, grazie all'impresa del Riviera delle Palme, di tornare prepotentemente in corsa per la Lega Pro. Il Termoli segue la sua strada. Le indicazioni del derby prenatalizio dovranno essere confermate domenica. Una squadra attenta in fase difensiva e pericolosa in zona gol. Con questi ingredienti visti contro il Campobasso, siamo certi che i giallorossi potranno giocare ad armi pari contro i più quotati avversari. L'Aquila ha ufficializzato il nuovo portiere classe 2003 Emanuele Vento, ex Tivoli e Sora, dove ha vinto da protagonista i rispettivi campionati d'eccellenza. Nel corso di questa stagione Vento aveva difeso i pali del Tivoli in nove gare ufficiali. Basket di Serie A1 chiuso l'anno con la quinta vittoria consecutiva, la Molisana Magnolia è proiettata alla Coppa Italia. La sfida che vale il pass per la Final Four, in programma a Torino dal 16 al 18 febbraio, si giocherà domenica prossima all'arena, avversario ancora da definire. A proposito della squadra, una delle protagoniste. Gabri Nerviciu, è arrivata questa vittoria. Diciamo che sulla carta era una partita semplice, però ha nascosto le sue insidie. Allora, credo che non ci sono delle partite semplici, perché questo campionato abbiamo visto che è difficile, tutte le squadre sono pronte e vogliono vincere. Noi siamo state brave e l'abbiamo portata a casa. Soprattutto all'inizio ho visto tante palle perse, forse perché c'è stato un po' di deconcentrazione. Ma c'è stata anche la pausa di Natale, volendo o non volendo, comunque perde un pochino il ritmo, quindi è importante che poi ci siamo aggiustate e siamo tornate sul pezzo. Ho fatto questa domanda a Mimmo, la faccio anche a te, anzi, ne faccio due. La prima, vi aspettavate tutte quante di chiudere il girone di andata quarte? Perché questo è un risultato storico per Campobasso. Credo nessuno se l'aspettava. Magari si sogna all'inizio della stagione, perché comunque ci credi che puoi fare sempre meglio, però quando veramente c'è scritto che guardi che c'è Campobasso quarto, credo che siamo tutti orgogliosi. L'ultima cosa, questa è una settimana importante, perché non si stacca, si continua a lavorare e c'è soprattutto da capire contro chi giocherete per poter realizzare forse quello che è il sogno che adesso tutti i tifosi vi chiedono, arrivare alle Final Four di Torino. Credo è un sogno veramente di tutti. Torniamo a lavorare a Forte perché sarebbe veramente, per tutti noi, sia giocatrici che Campobasso, arrivare nella Final Four è un bellissimo sogno, un bellissimo traguardo. Futsal di Serie A2, Elite al Pala Unimo, l'Ircus Molise cerca conferme contro la Polisportiva Futura. Il successo maturato il 30 dicembre contro il Cesena ha rilanciato il team d'Ateneo per la prima volta in stagione. La squadra di San Gennario non occupa l'ultimo posto. Ne abbiamo parlato proprio con il tecnico. Marco San Gennario, allenatore del CLN Cus Molise, vi siete fatti un bel regalo post-nataliso e prima del 2024. Grande prestazione, grande vittoria strameritata contro una squadra comunque forte. Sì, una squadra forte. A loro mancava il pivot che è anche il capocannoniere girone. Però va bene, non parliamo delle assenze perché noi porteremo la bandiera delle assenze. La vittoria è una delle più belle di gruppo, perché viene da un periodo molto particolare dove abbiamo perso tanti giocatori, un po' per cessione, un po' per infortuni. Vedi Turek, Willets, Bocca, Mazzaglia, Silva. Sei persone in due partite. Ci da portare sei punti a casa, diciamo molto utili per la zona, per la salvezza. Dopo l'avvio difficoltoso, adesso siamo a tutto un altro Cus. Li metti bene in campo, si aiutano tra di loro, difendete benissimo, subite poche reti. Infatti ti sei arrabbiato anche sul gol subito proprio all'ultimo. Volevi il clean sheet. E attaccate anche in maniera ordinata. Potevate fare anche altri gol. Beh sì, abbiamo trovato una combattezza di squadra, una voglia di rivincita verso tante vicissitudini che sono accadute in questo periodo. Credo sia questo. e la squadra ha trovato una sua quadratura, una sua dimensione. Si nota. Dobbiamo ancora migliorare tanto, ma sicuramente dovremo rinfortire un po' la rosa, perché siamo veramente ridotti all'osso. Settimana arriva Martinez, un argentino, un pivot che ci darà una grossa mano. Vinicius sembra fortunatamente aver risolto le problematiche dell'infortunio grave, ma speriamo superato. in modo da affrontare le prossime partite il 2024 con maggiore serenità. Mister, si chiude il girone d'andata, come sempre si fanno i primi mini bilancio. Da tua grande esperienza, che voto dai sinceramente a questa prima parte di stagione? Beh, la prima parte di stagione era un voto negativo sicuramente. Cioè, potevamo e dovevamo raccogliere di più sicuramente rispetto alla rosa che avevamo dall'inizio. Poi paradossalmente, levando nomi importanti, sono arrivati i primi punti, quindi vuol dire che la società ci ha visto lungo, anche su questo. Il bilancio poi del 2023 è sicuramente positivo, perché? Perché il 2023 ci ha portati in elite, non ce lo dimentichiamo. E nel 2024 dovremo cercare di riuscire a tenere la categoria che sarebbe una nostra piccola vittoria di campionato. Per il futsal regionale sarà assegnato domenica il primo trofeo del 2024 al Pala Unimol con inizio alle 18. È in programma la finale di Coppa Italia tra Boiano e Arcadia. L'evento organizzato dalla FIGC in Molise sarà anche l'occasione per richiamare l'attenzione dei tanti appassionati e addetti ai lavori. Ultima giornata del girone d'andata nel torneo di Serie B di Futsal dopo domani pomeriggio lo Sporting Campobasso in campo alla palestra Sturzo contro la capolista Domizia. Sul fronte societario la squadra si è ampliata con il nuovo direttore generale. Ivano Maselli, nuovo direttore generale dello Sporting, cosa ti ha spinto ad accettare questo progetto? Mi ha spinto ad accettare questo progetto la passione che ci mettono i ragazzi soprattutto quella che ci mette Francesco, Andrea l'idea che c'è un progetto dove ci si può divertire un progetto abbastanza lungo che ci può permettere di sfiziarci a rappresentare la città di Campobasso e tante belle idee, tanto da lavorare e adesso dobbiamo lavorare per cercare di risistemare un po' la situazione sul campo poi andremo con i progetti futuri. A livello dirigenziale quali i programmi futuri, quali le aspettative? Le aspettative sono quelle di migliorare l'aspetto dirigenziale, riuscire a allinearci alla categoria. Già siamo a buon punto, le persone che ci erano prima ci sono sempre state, hanno fatto un grandissimo lavoro trovo una società che già è ben strutturata, giovane, quindi c'è bisogno di crescere da questo punto di vista e poi ci sono tanti progetti che stiamo iniziando a mettere su carta. Dal punto di vista personale porti la tua esperienza nel futsal, quanto potrai dare a questa società? Io darò tutto me stesso, darò tutto me stesso, tutte le conoscenze che ho non solo a livello calcistico, che forse non sono le principali, ma soprattutto a livello manageriale e di gestione. Ecco, un campionato di Serie B che si sta rivelando duro, un campionato nazionale di livello, ma la squadra è vive e questo è quello che conta. La squadra, se andiamo a vedere i primi tempi, sarebbe in zona play-off. È una questione di esperienza probabilmente, un po' di fame, un po' di testa, però i ragazzi ci stanno, si allenano a mille, quindi è solo un momento, io sono convinto che possono fare bene. La squadra c'è. Volley di Serie B è tornata a sudare l'Energy Time. La squadra sta lavorando per la ripresa del campionato prevista il 13 gennaio in casa contro Casoria. Continua il testa a testa con il Genzano, che ha riconquistato la vetta, approfittando del turno di riposo dei Rosso-Blu. I Laziali invece avranno lo stop forzato nell'ultima del girone d'andata. Calcio d'eccellenza, l'Isernia ha rinforzato il pacchetto portieri con Matteo Galletti, classe 2005, arrivato a titolo definitivo dal Ragusa, società del girone I di Serie D. Per quanto riguarda il campionato, domenica è in casa contro il Termoli 2016 per riprendere alla grande anche nel 2024 e mantenere la prima posizione. Francesco Barile, difensore della città di Isernia. Dunque vi siete presi il primato proprio nelle ultime giornate del girone d'andata, dove poi è arrivata questa sosta e avete ripreso gli allenamenti, credo, con più carichi di prima. Sì, sì, siamo stati molto bravi a non mollare le ultime giornate. Ci siamo riusciti ad arrivare prima della sosta. Adesso sì, molto più carichi di prima perché l'obiettivo è ancora più vicino se continuiamo con la testa giusta. Sì, una tabella di marcia interessante da parte vostra. Da premettere, siete sempre andati in gol, sia in campionato che in Coppa. Siamo quasi a 23 partite di fila dove avete sempre segnato l'unica sconfitta che poi vi è costata l'eliminazione della Coppa. Sì, sì, la sconfitta nella Coppa anche se nei 90 minuti comunque la vittoria è andata a noi. Però, vabbè, capita in tutte le partite si può perdere, si può pregiare, si può vincere. Siamo stati sfortunati nella Coppa però puntiamo al campionato lo stesso perché non è mai vinta. Sì, uno dei primi allenamenti dunque con i nuovi innesti. Che idea ti sei fatta? Sì, siamo diventati una bella squadra anche con i nuovi innesti perché comunque hanno del bel potenziale e sono sicuro che ce la metteranno tutta come hanno dimostrato già in questi allenamenti. Sì, l'hai detto che bisogna vincerla tutta perché è un torneo che non permette distrazione. Sì, dobbiamo vincere tutto e basta perché un punto perso, due punti persi può costare caro. Il Ripalimosani dopo domani sarà impegnato sul campo della vice capolista Casertano per la prima di ritorno. Marco Di Rienzo, portiere del Ripalimosani, ultima uscita sia pure in amichevole di questo 2023. Che anno è stato per te e per la squadra? Bene, bene. Abbiamo iniziato un po' male sotto tono per varie cose che ci sono accadute però abbiamo realzato la testa, ci siamo messi a lavorare come si deve e ci siamo tolti un po' di soddisfazioni ma ci aspetta un buon girone di ritorno da fare. Che augurio ti senti di fare a te stesso, ai tifosi del Ripalimosani, e in generale a tutti gli sportivi per l'anno nuovo? Speriamo di continuare come abbiamo finito questo girone d'andata con delle vittorie, anche pareggi importanti soffrendo comunque con giocatori fatti male e così via. A livello mio spero di dare il meglio per i palimosani e portarlo più in alto possibile. Per il torneo di promozione il Riccia ha chiuso il 2023 tra alti e bassi sabato al Poce un importante scontro diretto per recuperare terreno sulle prime. Musa Turede della Lokomotiv Riccia come è stato finora questo campionato? Avete affrontato tutte le squadre secondo te c'è qualche punto in più che dovevate avere in classifica? Eh sì abbiamo cominciato l'inizio bene però non è andato tanto bene però dobbiamo rifare perché è ancora lungo il campionato quindi possiamo rifare come prima. Il vostro gruppo è un gruppo molto giovane che cosa pensi dell'unione tra i tuoi compagni? Un bel gruppo quindi dobbiamo aiutare dobbiamo fare un gruppo e cominciamo come prima. Adesso vi aspetta questo giorno di ritorno a gennaio vi state già allenando bene che cosa vi sentite di promettere ai vostri tifosi? Ah è importante perché i tifosi sempre stanno dietro di noi quindi dobbiamo fare qualcosa di più. Qual è invece l'augurio che fai a te stesso magari di segnare qualche gol in più? Eh sì volevo fare come sempre l'anno scorso ho fatto 24 questo anno volevo fare di più però ancora ho fatto solo 8-8 gol ho fatto però è poco è vero volevo fare di più di questo anno. Torna l'appuntamento correndo con la Befana la passeggiata per il centro storico organizzata dalla nuova atletica Isernia del presidente Caputo la manifestazione riservata principalmente ai bambini è in programma dopo domani pomeriggio con inizio alle 16 al termine del percorso la Befana regalerà la calza piena di doni a tutti i bambini iscritti bene è tutto buon pomeriggio a tutti i bambini